Poco lontano da Vespignano, sul torrente Enza, c'è il ponte alla Ragnaia, conosciuto come ponte di Cimabue, ricostruito con un'elegante forma cinquecentesca rispetto a quello medievale, famoso perché, secondo la leggenda, è qui che sarebbe avvenuto l'incontro tra Cimabue e Giotto Bambino, come racconta Vasari nelle vite, come potete vedere sull'album di matite Pennarelli Giotto e in tanti dipinti. Giotto era intento a disegnare una pecora su una pietra e il famoso maestro di rientro a Firenze rimase colpito da questo pastorello talentuoso, tanto da condurlo poi nella sua bottega fiorentina. A proposito, sapete perché Borgallegri si chiama così? Una tradizione vuole che il suo nome derivi dalla grande allegria del popolo fiorentino per la visita che il re Carlo D'Angio fece nello studio di Cimabue, mentre stava dipingendo una madonna. Infatti, egli avviò una ricerca pittorica improntata a sentimenti, l'umanizzazione delle figure sacre, che passerà anche a Giotto, anche se poi, come dice Dante, credette Cimabue nella pittura tenendo un campo e ora Giotto il grido se che la fama di colui è scura.